Non dà soddisfazione? Ma... Altro? No. Tipo... Biglietti del cinema? Pacchetti di sigarette? Vedi? Cos'è? Niente. Una volta che ci siamo fatti la canna qui... Se l'è dimenticato. Buttare, subito. Altro? No. Andre? Che è? Ma me lo vuoi dire chi è? Non ci sei ancora arrivata, eh? No. Ma secondo te... Chi è che mi può regalare una tassiera con scritto Dagli detacco? Si fa le canne? Dagli detramet? No. Eh, sì. No. Ma perché? Beh, non lo so. No, cioè scusa, ma con tutte le persone fighi che ti sbavano dietro ti vai a invurticare con quel coatto di merda? Ma che mi sbava dietro? Jacopo, Seba... Ma va. Giuro. Ma a Jacopo non piacciono i maschi. Ma tu sei un po' oltre, no? Per questo mi piacevi. Anche se non sono giapponesi. Vaffanculo! No. Grazie a tutti. C'è chi si 고mi il nostro sollezismo. non è un po' dobbere L'abbò non è un po' oltre loители Grazie a tutti